Ok E' il capitano che non parla Ah che bello, dovresti farmi tu Eh mi scuccio Ok ora sta parlando, qualcuno sta parlando, non è il capitano Io c'ho il volume un po' alto degli effetti, mi sa Eh io ho abbassato quasi Mi piace il casino però Sto malmenando e mi hanno sparato tipo Nel Nanooka Madonna Ma perché sono capitano? Ah sei tu capitano, che bella E puoi passarlo ad altro Perché l'ha fatto l'ammuticamento con l'altro capitano Vabbè che cazzo devo fare Proviamoci Ma questo è un animico ok? Si stanno tipo Eh che minca Ok ragazzi Oh c'è un amico a bordo cazzo Caccia troia Devo vedere il tè il tè il tè il tè Fermatelo Madonna Madonna Eh vabbè c'era C'è il combattimento colpa a corpo è vergognoso questo gioco Cioè veramente è uno dei più Noi grossi che l'abbia mai visto Ehm vabbè Beh dai Non è sempre la solita roba Dovevo migliorarla assolutamente Occhio Eccola Scheggene gli occhi Non c'è tanto che ci sei Sto qua a far niente praticamente Perché Sto arrivando un cannone C'è il fuoco sul deck eh Fuoco sul jet Eh Non vogliamo riparare Ma nessuno che pompa Ma devo fare io Ecco Che cazzo Bella ma che cazzo hai auto scontri Dai Motteteli tutti No 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 Vabbè è stato sull'altra nave a sto punto Non so Ah scappi eh Io sto blocando ma Drizzo schifoso Ma vabbè c'è Ma vabbè Pirate a bordo No il tè la spada Forse solo uno Uscito Ok Il delirio Sì stanno tirando certe cannonate Sto cercando di Mirare Eh vabbè Addio D'aiuto Raggi chi può veramente Ecco E che cazzo Oh io pompo Vabbè pompa pompa va Fammi la carità Eh una cannonata in bocca Vabbè Ferovissime pappe Sto coglione Continuano a saltarci su Sì no infatti Eh va Abbiamo perso Sì grazie siamo affondati Finalmente Possiamo giocare adesso Almeno volevo uccidere il capitano Finalmente possiamo giocare Così mi abbassa la media Dal capitano Se perdiamo Mastardi Ho sparato in testa Va bene Ah no capitano Finalmente Ti hanno ammucinato Malamente Dio Eh colpa mia Beh certo Sì Gira 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 Peccato Non è che l'ho mancato invece Non è sì Peccato in pieno E non rallentano mai quando devono fare l'attacco Aia Madonna che buono che ho fatto Sì ho visto un po' di sangue volare Ho fatto finire niente Giusto per Beh giustamente Perché si mette in pressione Sì E' la tempesta che ti va a cincare in bomba E' che va solo giù la nave Eh certo 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 Ah guarda t'ho preso Cannoncino Ah ancora Madonna mia che successo Allora io pompo e qualcuno deve Vedere l'incendio però Mi stanno riparando Oh cazzo Si ma Che secchi Si no Dove sono i secchi Certo Deve essere lì Mi sono capitano Ah ah Ma è stato questo Ah Mi sono capitano Si ma sta prendendo fuoco per andare a prendere un secchio Non so Non so Sono proprio Fiffa Naaa Un bel sacrifico Un sacrifico Un sacrifico Un sacrifico per... Ma no Cazzo, cioè, puoi mai andare così, uno oltre, uno oltre il garaone, cioè... Cioè, sto a... parli, parli nel video a un certo punto... Con la voce di cazzo, della madonna, se ti sento, cioè... Ecco, lo fanno automaticamente. Ecco, poi eccolo là, ma... oh, l'ho chiamata, l'ho chiamata... Uh, la stessa, cioè, pazzesco, adesso non le possibili... Cioè, vabbè, capito, nel percentuale che ci accada, cioè... Fire! È stato pazzesco, non è. Sì, con lo swivel e il colpire è quasi, non dico impossibile, ma... Ma almeno rallenta se non abbassassero un attimo le vele. Attacca questo nos, cosa rallenta? Si rallenta un cazzo. Ho capito, ma per girare... Spara e basta. Dai! Così non serve neanche rallentare. Eh, la madonna! Eh, però hanno cercato i due, però... Sì, io non cercato nessuno, mi è arrivata pezzo la palla, e che non è proprio nei maroni, cioè, diretta. Oh, ti torno già gli abbracci. Eccola, dai. Ah, qua, tu scuddi. È fiere. Ah, cazzo, io mi sono dimenticato di... Occhio! BAM! Sono l'esplosione degli esplosori. Mi hanno punnato, loro. Gianata! Ok, nata. Avevo distrutti loro? No, quel cazzo! Repair, repair! L'ho beccato in testa! Non si credo! Mamma mia, non si credo! Ma anche io, un'altra partita oggi, tipo, ho fatto in filo... Ma come? Stavo pompando! Ah, ma perché? Vabbè... Ho fatto un numero del signore... No, 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 nemico! No, no, nemico! Esatto, corri, 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 corri! Bastardi! Guarda, se ci arriviamo ci sono i 12 anni. Io ci ero riuscito una volta, non si erano accorti che erano... che ero un nemico. Ci ero poco. Perché a volte questi sono simili, eh? Adesso fossero alleati perché mi guardavano, non facevano niente. Ho detto, ma sono in una nave nemica o ho alleati? Poi ho premuto Q e ho visto che erano da tutta l'altra parte e mi ha detto, oh cazzo! Non posso salire! E ce l'ho anche arrivato! Culo! Ce l'ho anche arrivato! Mamma mia, ce l'ho quasi! Ancora! Ah beh! Allora basta! Se volete vincere è l'unica cosa da fare! Lai è il relativo! Eh, ma io non andrei con questo cesso contro quello! Eh, ma aspetta, ma ci sono anche gli alleati! No, gli altri sono a sinistra, proprio... E poi chi sono lì? Due alleati sono a sinistra, dito quella roccia lì, vedi? Eh, non ci vanno a vedere il mismo! Eh, ma sono lì dietro gli alleati, in mezzo agli alleati! Come ci fanno male? Già ci vedono molto! Già ci vedono molto! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Ma li ho anche beccati! E ora secondo me li danno... Dai, c'è un'altra cannonata a poter tirare! Eh, vale! Resistiamo dietro! Guarda io c'ho ancora il colpo pronto! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Guarda qua! Guarda qua! Guarda qua! Siamo in lo stronzo! Mio Dio continuerà a girarsi sul più veloce! Ma che è già devi ricaricare il mio cannone? Con l'aiuto del Dio del mare ce la possiamo fare? Sono pronto, sono pronto! Vai, tiri dritto, tiri dritto! Siamo 38 a 32 per noi! Mamma mia! Tiri dritto non girare! Devo girarmi per forza, sono citato! Ah ok! Reload! Bam! Mamma mia! Ho un mal di testa! L'ho vista arrivare quella palla di cannone, giù! Cazzo ha dato tutto a segno! Un'abordata ce l'ho fatto! Un'abordata stiamo affondando, direi! Già si prendono, aiuta, bam! Devo andare in fast, dai 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 dai! Eh, io sto pompando, ma... Veloci, veloci! Faccio voler bacio di vero gli spinaci! Ne abbiamo perso! L'ho provato! Grazie! Cioè già non si vede un cazzo! Ci metti tu davanti voi! Non voglio il tè! Eh, questo cazzo di tè bevilo! Questa mia ventura a capitano è stata molto... E poi devi vedere l'animazione che lascia la tazza di tè per aria! Davanti alla tua bocca! È bella proprio! Fantastica proprio! Se riusciamo andiamo su una nave grossa Nei pirati! Eh, sì! Ce n'è bel caso! Nei pirati! Mi aspettavo tu fossi il best captain, invece... Eh, invece... Mi sono in uso! Ah! Ah! Non so come ho fatto far mai sulla... Sulla... Sul tavolo qua! Non lo so! Sulla... 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 Grazie a tutti.